Lampada? Corde? Bombe? Le vuoi? Sono tu, amico mio, a patto che tu abbia abbastanza rupie. Mi spiace, Link, ma non faccio credito. Torna quando sarai un po' più... ricco. Lampada? Corde? Bombe? Le vuoi? Sono tu, amico mio, a patto che tu abbia abbastanza rupie. Mi spiace, Link, ma non faccio credito. Torna quando sarai un po' più... ricco. Io non faccio vlogare. Mi spiace, Link, ma non faccio? Mi spiace, Link, ma non faccio? Ma non faccio vlogare. Grazie a tutti.